Gerardo Pignataro, un campo basso che è partito con l'80% delle riconferme, dei giocatori riconfermati, anzi forse anche una percentuale superiore, poi si sono integrati altri giocatori, una buona qualità hanno dato a tuo avviso? Sì, sicuramente, la società penso che ha fatto scelte mirate, giuste, ha puntellato l'organico dell'anno scorso confermato con le giuste pedine, sia di esperienza che di qualità, erano secondo me gli acquisti giusti da fare. Notiamo che comunque è presente sempre questa componente entusiasmo che vi portate un po' dietro dalla passata stagione, saranno stati i risultati, le due Coppa Italia vinte, comunque rimane quell'affiatamento che non avete assolutamente smarrito? Sicuramente abbiamo mantenuto quella sintonia dell'anno scorso, c'è già sintonia con i nuovi arrivati, si lavora per un unico obiettivo, cercare sempre di vincere e fare sempre bella figura, cercando di dare sempre il massimo e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. L'obiettivo nostro è soprattutto quello di coinvolgere quanto più tifosi possibili e di far riavvicinare la gente a campo basso, avvicinare al calcio. Nell'amichevole contro lo Spinete sei stato provato da centrale difensivo, non cambia nulla per te in quel ruolo? No, diciamo che è il mio ruolo naturale, però all'occorrenza, a seconda di quello che mi chiede il mister, mi adeguo e mi adatto alle sue esigenze, per me non c'è nessun problema, ripeto, quello che mi chiede di fare il mister mi metto a sua completa disposizione. No, perché l'anno scorso sei stato un perno davanti alla difesa, ecco perché c'è una piccola variazione, qualche metro indietro, solo questo? Sì, sì, ma il mister diciamo che mi sta provando sia a centrocampo che all'occorrenza indietro, sono tranquillo, ripeto, mi metto a sua completa disposizione. Secondo te è una squadra già completa o bisogna intervenire in qualche reparto particolarmente? A mio avviso penso che la maggior parte del lavoro è stato svolto alla grande da parte della società e dello staff tecnico, penso che siamo già a buon livello, bisogna solo lavorare e trovare la giusta sintonia nei movimenti e nelle situazioni di gioco. Che cosa si farà nella seconda parte del ritiro che si svolgerà in sede? A Campitello abbiamo fatto più un carico, mentre invece adesso ci aspetta un lavoro più di qualità e di brillantezza e cercare di smussare i carichi di lavoro e dare maggiore brillantezza sia alle manovre di gioco sia al lavoro settimanale.